Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo e vi anticipo, vi parlerò di estate, ancora giornate di sole, per questo domenico infatti prevediamo cielo sereno, poco nuvoloso in tutta Liguria e poi soprattutto temperature ancora alte, punte massime oltre 30 gradi. Entriamo più nel dettaglio, partiamo da Imperia, dove la giornata appunto sarà anche qua pienamente estiva, con tanto sole e temperature che lungo le zone costiere toccheranno anche i 30 gradi, un pochino di vento da sud, ma sostanzialmente è stata di brezze marine. Anche su Savona e provincia poco da segnalare, con mare calmo poco mosso, sole e temperature che toccheranno anche i 29-30 gradi. E si va avanti così, quindi anche su Genova e provincia giornata estiva, giornata calda, anche di notte a primo mattino non fa particolarmente freddo, solo nelle zone interne temperature un po' più frizzantine. Nel Tiguglio bella giornata estiva, ancora tanto sole, mare calmo poco mosso, ventilazione debole da suda, temperature fino a 30 gradi e poi infine nello spezzino, anche qua la situazione non cambia, con l'alta pressione che garantisce tempo bello e temperature sempre da piena estate. giornata di lunedì, ancora all'insieme dell'alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, quindi anche in Liguria sole sempre protagonista, i temperature crescono perlomeno nei valori diurni al di sopra delle medie del periodo. Per sapere fino a quando andremo avanti così, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.